Alberto Biancheri, Amaia, Rivia l'acqua, problema ben noto ormai a tutti e alle cronache, che fare? Beh, che fare? Quello che stiamo continuando a fare da diversi anni, sicuramente quello di andare avanti in questo progetto che è portato avanti da tutti noi sindaci, adesso bisogna assolutamente aspettare il prossimo appuntamento con il concordato preventivo e all'omologa, quando ci saranno tutte le garanzie, come abbiamo sempre detto, anche il conferimento di Amaia. Io credo che vada portato avanti il progetto dell'acqua pubblica e soprattutto però determinate condizioni che sono quelle che abbiamo sempre spesso nelle varie conferenze e anche nella seduta di oggi di fronte a tutti i dipendenti.